Successo di pubblico alla seconda edizione del cortometraggio Lungomarefest, ne parliamo con Cateno Piazza, coordinatore dell'iniziativa. Sì, questa è la seconda edizione, buonasera, siamo proprio qui in occasione di Lungomarefest, cortometraggio Lungomarefest. È proprio un'occasione per presentare alcuni dei film, dei cortometraggi più belli della stagione e nell'occasione abbiamo pensato di inserire dei progetti realizzati dagli studenti piuttosto che da giovani registi che volevano presentare proprio qui a Catania e all'interno di questa cornice straordinaria che è Lungomarefest. In particolare volevo anche raccontare proprio l'emozione che il pubblico già nella prima parte della rassegna ha avuto. In particolare con il cortometraggio Io volevo vivere, è un cortometraggio raccontato dagli studenti del liceo scientifico di Vittorini, Gorgia, del comune di Lentini, che ha raccontato proprio la storia di determinare con grande gioia la vita, la possibilità di vivere.